e già accesa già accesa allora caro gervasio siamo qui in compagnia di un gruppo di circensi di casa monica sono venuti con 125 misto tra suzuki honda yamaka persi presi da varie moto recuperate parcheggiate collegate ti faccio vedere un po che è questa parte quindi che noi perché passiamo su asparto noi fanno potere che parte un attivo so ma immagino la ostienza ritorniamo e riuscivo fuori da qua capito 5-0 Grazie mille 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 Grazie mille